Sono Davide Michelis ed in Snyder Electric mi occupo di sales e marketing per la clientele and use, quelle aziende e gli utilizzatori finali che Snyder Electric accompagna nella trasformazione digitale e nel piano di transizione 4.0. Ci siamo chiesti dove si sviluppa il vero valore dell'industria manufatturiera? La risposta è una, nei distretti industriali, perché il valore del manufatturiero italiano è lì dove la filiera è integrata, le competenze sono radicate e il Made in Italy è differenziante perché è sinonimo di eccellenza. Abbiamo quindi approfondito la nostra proposta di valore per distretti, frequentando le aziende e cercando di capire meglio i loro bisogni, le loro esigenze e le possibili soluzioni. Ne sono nate delle case history, dal distretto del vino a quello del cioccolato, alla concia, al tessile, dalla galvanica alla lavorazione dei metalli e oggi abbiamo una storia da raccontare per ogni distretto. E' quello che vogliamo raccontarvi nella nostra newsletter, un giro d'Italia, distretto per distretto, alla scoperta delle nostre eccellenze industriali e del modo in cui hanno affrontato e stanno affrontando la digitalizzazione e la sostenibilità oggi. Restate con noi!